Musica Nell'ambito delle iniziative volte ad approfondire l'educazione alla convivenza civile dei giovani, sostenendone la crescita nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso l'istituzione, e intento dell'amministrazione costituire la consulta delle politiche scolastiche e giovanili, organismo finanziato ad accrescere nei giovani la partecipazione democratica al governo della città, la conoscenza del funzionamento degli organi dell'ente e dei suoi processi decisionali, incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità, così da consentire loro la possibilità di dare un apporto costruttivo alla sua vita democratica e civile. Lo rende noto l'assessorato comunale alle politiche scolastiche e giovanili. A questo scopo l'assessore Concetta Mancuso ha convocato per una riunione fissata alle 16 di venerdì 31 marzo nell'ex educandato San Luigi i rappresentanti degli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, i rappresentanti dei movimenti e delle organizzazioni giovanili presenti nel territorio comunale e di altre associazioni giovanili interessate ad approfondire e valorizzare il protagonismo e le risorse dei giovani, consentendo loro pari opportunità e partecipazione sociale. Sono in pagamento le borse di studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie di primo grado relativa all'anno scolastico 2011-2012. Lo rende note il Servizio Pubblica Istruzione del Comune. Questo contributo può essere riscosso al credito siciliano. Giovedì 30 marzo alle ore 18, nella sede dello sportello di Via Roma numero 215 di Caltagirone, nel corso del workshop organizzato all'interno del progetto Giovani per l'inclusione, finanziato nell'ambito del Piano Azione e Coesione Giovani No Profit, sarà presentato il primo rapporto demografico sui giovani del Calatino Sud Simeto 2017, dal titolo Una fotografia del presente, una strada per il futuro. L'indagine, realizzata dal Centro Studi Cesta, offre un quadro d'insieme sulla situazione demografica del Calatino, con particolare riferimento ai giovani della fascia 14-35 anni, e si pone come oggetto di riflessione sulla fotografia attuale in termini di presenza giovanile nei 15 comuni del Calatino, ma anche un punto di partenza per nuove ricerche sul territorio. Dal 2 a 30 aprile, presso le sale espositive della Corte Capitaniale di Caltagirone, sarà possibile visitare la mostra del fischietto Giochi e Giocattoli Antichi. Sabato 1 aprile, alle ore 18, presso il Palazzo Ceramico, sarà inaugurata la mostra Pop Vibration, la collettiva che riunisce alcuni fra i migliori artisti pop dell'attuale generazione. La collettiva, che sarà aperta al pubblico fino al 30 aprile con ingresso gratuito, è stata organizzata dall'associazione Mansourcing, col patrocinio del Comune, e in collaborazione col Consorzio Concreta, Galleria Giuseppe Venio Project, Galleria L'altro Arte Contemporanea e AID. Pop Vibrations è una smostra unica nel suo genere, che permetterà ai visitatori di compiere un viaggio artistico particolare alla scoperta delle nuove tendenze del pop, grazie alle idee innovative degli artisti partecipanti. Dal 6 al 18 aprile, presso la Corte Capitaniale di Caltagirone, sarà possibile visitare la mostra di quadri in oro, monete e svaroschi dell'artista Maria Danna. Domenica 9 aprile, a partire dalle ore 20 e 30, si terrà la via Crucis Cittadina, animata dai giovani di tutte le parrocchie di Caltagirone. La partenza è prevista dal piazzale dell'ospedale Gravina e si concluderà con l'arrivo al piazzale del Tribunale. Grazie. 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 Grazie.